Burloni, oggi su Minecraft siamo rinchiusi in un blocco di diamante No, no Nico, non devi rompere niente Vabbè, era tuo questo, tanto il mio blocco è di là C'è un diamante sotto, molto carino Anche al muro c'è un diamante Sì, vai nel tuo blocco, vai, vai, ciao Ciao, 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 ciao Allora, oggi ragazzi cosa dobbiamo fare? Semplicemente abbiamo da fare delle sfide per provare ad uscire da questo cubo gigante di diamante Avremo due cubi giganti, uno di Nico e uno di Marci E ovviamente chi farà più sfide nel miglior tempo possibile uscirà Nico, sei pronto? Quando vuole Vai Ah, così è partito Crafta cinque ripetitori, ma bocca paletta, ma stai scherzando? Tu sai crafting, vero? Sì, sarà stone e le torce di redstone e basta E il quarzo? No, il quarzo è il comparatore, zio Allora vado Ma tutti questi mob qua, cosa devo fare? Troppi, 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 troppi Io devo andare in cave Aspetta, facciamo così Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo e me ne vado in caverna proprio così, tirando giù Non so se hai senso scendere subito in miniera Perché è difficile sta sfida Io fare tipo, può farmare o qualcosina Ok, ho della redstone Uno, due, tre Ok, e mi servono uno, due e tre Dove ritrovi? Nel nether Ammazzatemi, ammazzatemi Grazie mille Oh, nello stesso istante, zio Grande Oh, fortissimo, sei fortissimo Allora, io mi sa che non riesco a fare il ripetitore Perché no, lo riesci o non riesci? Riesco, riesco Devo solo mettere a cuocere un attimino Ma hai cinque ripetitori? E cinque Zio, no, non riesco io Cinque sono tanti Quanta stone serve per farne cinque? Scusami un attimo Tre Per cinque Ma qua è tutta Ma non c'è la pietra sotto? Pietra? Pietra? Non entra! Zio, non c'è la pietra Ma non c'è la pietra Da me è tutto pietra Che stai a dire? Eccola qua la pietra Tre mele d'ora Oh Ma sbaglio? Sono difficili queste sfide? Allora, le mele secondo me vengono droppate facilmente Ora te lo dico, anzi Dai, provo a spaccare tre alberi Ti dico quante mele escono fuori Ok Io intanto sto cercando di prendere un po' di roba qui Ma la situazione non è delle migliori Mettiamola così, ok Il primo mele date zero È un buon segno Quante redstone ci saranno? Ci servono, aspetta Non mi ricordo Sono un po' di diamanti Cioè che ci sono Non si sa mai Prendiamo un sacco di cobblestone Perché questa qui serve Servono anche un sacco di mele Di oro Uno Dio, per fare la mele d'oro serve tantissima roba, eh Ma tranquillo Zero Dai, zio, non ti devi preoccupare Devi solo Non devi demordere Non devi demordere, campione Mi raccomando, eh Tu sai che sei forte Devi solo credere un pochettino di più in te stesso Qua c'è 15 di carne 16 Tu hai visto 15 16, 16 Ho letto male, zio Ho letto male Ho letto male Ci sono troppi mob Non si capisce nulla Troppi mob Come faccio qui? La situazione non è delle migliori, ragazzi La situazione non è delle migliori Allora, per fare le mele d'oro Stavo pensando una cosa Fatti ci servono 8 per 4 8 per 3 Quindi 24 di oro mi servono Tu quanto oro hai? Io al momento sto cercando le mele Ne ho 0 Oh, 16 di carne Ok Dicevo, sto cercando le mele Ne ho 0 Quindi C'è, li devo cuocere Però, sì Bene Molto, molto bene Io sono già un bel po' d'oro Te lo dico io, eh Sono a 11 di oro 12 Bene, 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 bene Sto andando veramente bene Il fatto che sto prendendo Secondo me un po' Crafts at gli strumenti diamanti Bene Anche questo Molto bene come cosa Sono messo bene anche per questo Perché Ne servono 3 6 7 8 9 10 e 11 In teoria, giusto? Bisognerebbero servirne Anche la zappa? Eh, penso di sì Ho una mela Volevo dirti e vantarmi di questo Avere Due, due mele Due mele, scusami Eh, due mele sono tante, zio, eh Tu? Quante? No, foto F3D Ah, dove sono le mele? Cosa vuol dire F3D? Che ho cancellato la chat Ok, l'ho ritrovata, tranquillo Le mele ce le ha in chat, scusami E c'era scritto quanto craftarle Ah, quante? Crafta 32 scale di O Ok, sono tutte sfide abbastanza Facili Allora, io di diamanti ne ho abbastanza Per far tutto Ancora no Perché ne ho Eh, no, ancora non ne ho abbastanza Ok, ho 9 di diamante 10 e 1 Io posso fare un sacco di sfide, zio Un sacco Ma veramente un sacco E il bravo Io faccio però la prima Guarda, allora Dopo un calcolo molto approssimativo Ecco, per esempio Ne manca uno Però ora Guarda che approssimazione Crafta 32 Quella Bravo Grazie Sei forte, zio Ma c'è Sainz Ottieni 12 ender Per le comma vacce E come dovrei fare? Come dovrei fare Per fare questa cosa? Eh, fatemi capire un attimino Allora, devo capire due secondi Una cosa Io per fare i ripetitori Uno di resto Due torce E tre di stone Dove sono gli animali Che tu hai fatto un sacco di carne Scusa Io non ce l'ho testa Dentro la fattoria Che alla fiera mio padre comprò Hai capito te Ok, ce n'è veramente parecchie Effettivamente Sì, morite tutte No, non c'è la maiuscola È però non vale Calpa Cos'è? Vabbè, dopo ci prima Ma non c'è la maiuscola Io perdo sempre per se cose qua Tanto lo so già come funziona Quindi Ma non è vero Che ti do sempre aiuti Per capire la parola Eh, sì Ma io ho l'unica cosa È il mio torno d'Achille questo Ne posso fare uno Mi servono tre Sei nove Dove Mamma mia, ragazzi Quindi Un sacco di stone Eh, ma Ma benvenire tu come li hai gestiti Così? Io ho una domanda Perché Se ho preso due cose di carne Non me li conta? Perché li devi mettere a cuocere E stare vicino alla fornaccia Mentre cuoce? Eh, sono di fianco Ma non me li sta contando Ah, sì Ora li conta Devi attendere un pochino Siamo sicuri, ragazzi Sare che li conta Nel caso Lo vorrei manuale questa cosa Perché insomma Cioè, diciamo Cioè, me li ha contati Ragazzi, serve tranquillo Funziona Io ho cinque Ma se prendo tipo il legno Qui dovremmo andare Eh, sì Ho una mela Ehi, mela Ho cinque Ho cinque stack di patate Dove l'hai fatta esattamente Sto sfida Poi è apparsa adesso C'era una patata L'ho preso E ho detto Vabbè, ottengo due stack Allora, io una mela dono L'ho fatta, ok Ma tutti sti zombie Non è che servono dopo Io non li voglio uccidere Eh, infatti non li uccido Ma come fai ad andare in miniera Senza schiattare Io sono andato prima Perché io sono più forte Eh, va bene Ok Io non comprendo come tu abbia fatto Dai, amilcare smettila su Ah, la parola Decrypta la parola Invece che amilcare Non ho idea Non è la mia idea Ok Ripeter fatto Me ne manca solo uno Eeeeee Eccoci qua Mi sa che riesco a fare L'ultimo ripeter No, mi servono due torci di redstone Non era solo una Erano due torci di redstone Ok Facciamo così Ripeter E sbam ragazzi Marci fa cinque ripetitori E abbiamo anche dodici di carne Cotta Yes Rompi Ottanti Ok, buono Io non ho preso il ferro Ma lo prendiamo Ora, no worry Io non ce la faccio più comunque Io, ragazzi, sono già ottanta 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 Ecco qua Fatto ottanta Molto, molto bene ragazzi Tanta roba Però bisogna delle mele, per favore Grazie mele Mele, 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 mele Mele, mele, mele Di mele, quante ne ho? Zero Ma non escono le mele, zio Eh, te l'ho detto prima Non mi ascoltavi Ecco qua Venti alberi Eh, ragazza Ma io ho 16 di carne cotta Ed sono stato di fianco Non me l'ha contato Che facciamo? Me la devi dare manualmente Grazie mille Ok Io sono a tre Eh, tre sfide Tre sfide Tre sfide No, ma la mia mia è ingestibile Io non so come tu abbia fatto Cioè, davvero ingestibile Eh, sponugano nella neve Ma io ho una domanda Posso avere la cosa della carne cotta O non è possibile? Io l'ho fatta, eh Io l'ho fatta Sono un ditino nel sederino Lo sai? Eh, io l'ho fatta Però non ho l'oro Perché muoio quando scendo in miniera Ok, fatta anche questa Ragazzi, nel chilling Ci facciamo anche le due mele d'oro Avanzate Ok Ok Ecco qua Non mi ha contato neanche le mele d'oro Devi mangiarle C'è scritto consuma Leggi Consuma? Eh, non l'ho visto Calma Una, due e tre E a le, a le, a le, a le Marci, marci Allora, cinque base Non so Crafta gli utensili in diamante Anche quelli posso farli Io faccio così Faccio così Ah, bene Faccio così Mi faccio così E mi serve solo la spada La spada Devo fare, zio La spada La spadina Fatte tutte, ragazzi Tutti gli strumenti in diamante Fatti Mi farei una cestolina La mettiamo qui Ci mettiamo le cose dentro Che non ci siamo Tipo le cose in diamante Eccoci qua Perfetto Ok, la mia Devo fare 32 scale Ma, secondo te La, bravo Secondo te La parola da decifrare, no? Che ha una y È una parola straniera I chitaliani con le y Me ne vengono in mente davvero poche Non ne ho la minima idea, zio Ma proprio minima idea Non ce l'ho E dovremmo trovarla questa idea, eh Perché se no Hai ragione Zio, hai ragione Hai ragione Ma io attendo ancora la mia sfida Perché io Quella sfida io l'ho fatta Te lo giuro Lo giuro che ho fatto, zio Con che carne è cotto Magari non era una carne buona No, era carne buonissima Era carne veramente molto buona Ok Così E così Perfetto Ho spawnato un golem nella neve Ma non me l'ha dato Neanche quello Cosa devo fare? Oh Tutte lui ce le ha Spawno un golem nella neve Eh, sono un golem nella neve E non me l'ha dato Sono qui, zio 7 a 7 siamo, eh Pensavo fosse la parola Dio Però potrebbe esserci, eh Forse l'ho fatta giù Sì, l'ho fatta giusta Però il golem nella neve Ancora non mi dà Non mi dà fastidio sta roba E ve lo dico io, eh Ve lo dico, ve lo dico Io che ve lo dico a fa Che ve lo dico a fa Sono nella neve Di nuovo E facciamolo Eh, ragazzi Non va il golem nella neve Quindi sono a A 8 Ok 8, 8, 8 Ok E le patate Dove sono? Là Quante patate bisogna avere Che non mi ricordo già più Eh, due stack 80 tipo Due stack Sicuro? Proprio Secondo me c'è un header Da qualche parte Ho questo presentimento Però non so dove Sfidere Ok, stanno crescendo in fretta Vediamo le altre sfide che ho Allora Ma da marcia ha fatto Completo uno Ok Me l'ha data adesso Non so come Ma me l'ha data adesso Va bene Andiamo se a me va Non è andato neanche a me Ma l'ha dato dopo un po', eh Quindi Lo so dove fare Nella neve E io l'ho fatto Nella neve L'ho fatto No, la sono messa in testa Allora aspetta un attimino Cosa che devo fare Altro Qualcise 16 di carne Non me l'ha data Ma l'ho fatta Blaze Enderpearl Stack di patate Ok Io praticamente ho fatto Tutto quello che potevo fare Ok Scambio con Cosa che ti parla Abbiamo 6 minuti Siamo pari Zio Siamo 9 a 9 Siamo Io vengo E non Sì, vabbè Questo cos'è ragazzi No, dico Che a Milcare Chiede un bel po' di cose Ah, lo scambio Quei villager Spera e basta Da me si chiamano Una milcare No, no, non ho visto Come si chiamasse Spera e basta Credo C'è un po' di inventivo Oggi con i nomi Per le mie Sono ingestibili Me le già fatte io Ma abbiamo fatto tutto Le miniere Le miniere Tu le mie le hai fatte poi Alla fine Sì, le ho mangiate Molto gustose Ma qua no Che c'è sa Sainz Sa, Carlos Ah, ho capito Verso ho capito una roba Tu sei capito? Vado, ma serve 32 di ferro Ma porca miseria Ma dove lo prendo 32 di ferro Eh, io pensavo Dicessi quello prima Eh? Io pensavo Dicessi quello Il ferro Eh, no, guardavo i lapis Stavo guardando io No, ne ho quelli C'è già Anch'io ce l'ho già Quelli lì Ah, io di ferro Ne ho esattamente 11 Quindi siamo praticamente Pari zio E letteralmente Ingestibile Ma io non capisco Come tu non muoia Eh, ma zio Ti guardi il mio video E dirai Ah, ma perché non l'ho fatto Anch'io questa cosa Cioè, ma son scemo Lo direi sicuramente 100 su 100 Lo dici Ingestibile Ingestibile Ma non me lo vuoi dire Cos'è che hai fatto Quindi la miniera Perché dovrei dirtelo Solidarietà Tu sto per piangere Quando faccio il ferro Te lo dico, ok? Ma è qualcosa che va Contro le regole della natura No, no È tutto legit Hai fatto le torce? Ma va, ma zio Ma che dici? Ma che è un giusto Cioè, ma c'è No, è pazzicchi Tutti forti, ma Le sfide sono finite La carne era da mangiare O solo da cuocere Allora da cuocere Io se faccio sta sfida Ho vinto Ma come? Allora, non è vero Cioè, da fare le enderperle Le blaze Eh, ti piacerebbe? Io mi sto già portando avanti Cioè, ho già le enderperle Praticamente Come hai fatto le enderperle? Ah, non glielo dico Ti lo dico Quando hai mai Ah, perché ci sono i tizi lì Come che si chiamano I tizi qua sotto Come scambiano Cuoci 16 di carne Carne cotta 0 di 16 Ma che carne è cotto? La carne di maiale Cioè, di Di mucca Non so Ma i sensi Bisogna ammazzarli Boh Sono dei piloti No, questo lo so Ma come mai sono su Minecraft È impossibile andarli sotto Ah, come? È impossibile Lì sotto È impossibile Zio È impossibile Lì sotto Ti mi sapete Spare inare Prima ho capito Come hai fatto Ha fatto tutte le cose French mining Io non l'ho fatto Non scenderà questi Di blaze Ma che dicendo Tu mi stai Niente Mazzami Era uno scherzo Mazzami Veloce Non nascono però Questi blaze Hanno problemi Ma me ci sono Se i tizi Sono da ammazzare E i tizi I science No Cioè, bisogna scambiare Sì Ma io ho tutta la roba Per scambiare Ma non mi scambia Vabbè Scambio così Gli hai triggerati No, non è A noi Villager Ok, niente Pensavo i science Quindi sono da scambiare Le cose E ma come faccio Vuol che ti risponda Ho poco Ho poco Io Ci ho tanto L'ho Ok One Two Three Four Five Qua cdc Canemato Uno Adesso Ma non l'ho fatto Io Molto buono Anche questa è andata Mi rimane Ma io Ho un pinto Non neanche reazioni Volendo Dovrebbe Cino un po Partito Stato giusto Da carlo Sainz Va bene Carlos Non è Carlo Carlos Ma perché Siamo in Italia Si italianizza Oggi 16 di carne Continua a salirmi adesso Non so se è normale Sta cosa Vabbè 12 di carne Va bene E tu hai finito Mi servono un paio di enderpearl Io non l'ho trovato Io non l'ho trovato Lo spawner di blaze È abbastanza facile A trovare in realtà E io ho altro enderpearl Mi avete givato Gentilissimi Ma dove sia io Quella zona lì Qua Basta Basta Non ne posso più Ma che è Ma cos'è Perché ho della blax Andate uscita Guarda gli scambi Ehi scambiati Scambiati ragazzi Scambiati Basta Ma quanti mob ci sono Ne un po' troppo Ragazzi E un po' troppo E un po' troppo E un po' troppo E un po' troppo Ho sempre detto Che erano troppi Ti mi dici no Ho 3 enderpearl Ho scomparito Ultimo Io ne ho nove E si stanno ammazzando Persone i p I p Come vi chiamate Sainz Quanti bisogna ottenerne Io comunque Lo spawner di blaze Non l'ho mai visto È in fondo alla miniera Proprio in fondissimo La Come si dice La via che scende di più Non ho idea Di come ci arrivi Da dove ci sono i carlos Sono qua Ecco Da dove ci sono i carlos Curvi a destra E vai giù Guarda gli stai enderpearl Su Ma tu guarda Che comunque Io ho da fare solo Enderpearl e blaze Eh ma a me mancano solo tre Ma è finito Come è finito? Non so Io ne ho nove di enderpearl Eh allora non vale Ehi Ma per tornare sotto E vado a prenderli altri Qual era il mio buco E questo o l'altro? Ah no perché è finito il tempo Zio È finito il tempo Hai vinto Amici sconfitta Meritata Con un po' di mal di gola Vi dico che rimarrò qua dentro Col mal di gola E ciao